Solo Dio mi può giudicare. Non mi può giudicare, ma io sono il massimo. Non è vero senso cosa fare, ma io sono il massimo di tutti. Non mi può giudicare, ma io sono il massimo di tutti. Sono un libro professionista. Faccio un po' di tutto. Sono una persona che comunque ha un altro sport. Qual è la parte peggio del tuo carattere? Forse è quella, l'istante. In realtà, a non contare con la 10 per farlo così. È la cosa più giusta che ho fatto. Ho tre bambini che sono a me. Li adoro, gioco sempre con loro, gioco spesso con loro. E diciamo che con la mia famiglia ho trovato un po' più di satinità e ha bilanciato anche il mio modo di essere. ... 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